benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di istruggi un po' di like, iscriviti al canale, iscriviti anche al canale telegram iniziamo a bitcoin 27.389 dollari in questo momento e volevo andare a vedere con voi quella che è la formazione che si è letteralmente creata a testa di bar simpson a partire da ieri dalle ore 11 perché c'è stato letteralmente uno skyrocket successivamente dump e ora stiamo letteralmente lateralizzando e cosa osservo in questo momento osservo che quel famoso supporto di 27 mila dollari ha tenuto addirittura sul one hour alle ore 17 c'è stato un grosso crash di mercato che si è portato a 26.864 dollari al momento per cui stiamo lateralizzando siamo in zona tra regoletta rischio si siamo ok in questo momento perché se andiamo a vedere il daily cosa vediamo vediamo letteralmente che in questo momento l'ultimo baluardo è quello dei 26.500 dollari come possiamo vedere letteralmente e io l'ho segnata con una retta ok rossa orizzontale quindi attenzione perché se dovessimo rompere a ribasso allora il piccolo sistemico è molto alto poi un'altra cosa che osservo in questo momento è la seguente secondo me rimaniamo ancora bullish perché quel famoso supporto delle sai dei 41.50 in questo momento sta ancora tenendo per cui chiaramente se vince che cosa si vince che questi 26.500 dollari se saranno lotti ci porteranno in zona 25.4 e da qui potrebbe iniziare un vero e proprio crash anche se andiamo a vedere le medie mobili cosa vediamo vediamo che eravamo sopra alla media a 20 periodi ok di gran lunga e potremmo tornare letteralmente in zona 200 periodi si possiamo tornare quindi ovviamente in quale caso tutto questo potrebbe avvenire in caso di rottura di 26.5 questa è letteralmente media se andare a vedere sul weekly questa possibilità è più che confermata perché il top relativo su RSI dei 70 potrebbe proprio indicarci questa cosa qui l'avevamo già visto in data 8 novembre del 2021 top relativo delle 6 e 70 successivamente scesi nuovamente a 30 per cui attenzione soprattutto sul weekly quindi io ovviamente ho una strategia in tutto questo se quello che avevo appena detto dovesse accadere ovviamente andrò a comunicarlo soprattutto all'interno del gruppo dei cowboy ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo sull'alcoindex perché è molto interessante l'alcoindex in questo momento abbiamo visto anche quello che è stato ieri il crash di mercato e come l'alcoi hanno tenuto letteralmente bene quindi già questo ci indica tra virgolette alcoincision che attenzione alcoincision non vuol dire che le alcoin fanno 100x vuol dire che le alcoin vanno a performare bitcoin mi raccomando quindi sul 90 giorni cosa vediamo vediamo ancora un livello di 4 quindi secondo me molto interessanti alcuni da qui a 90 giorni primo elemento e secondo elemento sul main series è stata una bella risposta e andrò a vedere soprattutto alcuni alcuni che hanno tenuto bene giornate ieri guardate qui siamo andati a 13 e c'è stato un pampone a 31 quindi pampone che potrà ancora continuare se può continuare perché secondo me fino in ottica zona dei 75 non c'è ancora rischio ok e vediamo come alcune alcoi hanno iniziato a performare bitcoin come cardano anche se negativo cardano erond e tantissime altre per cui andatevi a vedere le alcoindex ora una di quelle che sta facendo veramente numeri pazzeschi guardate qui sto registrando in questo momento siamo a 0,50 centesimi bgb sta letteralmente per virgolette devastando il mercato in questo momento ok vicinissimo il suo nuovo volta mai guardate qui veramente qualcosa di pazzesco trovate ok se volete andare a trarre bgb bit get trovate sotto il referenza in descrizione mi raccomando vedete 20 per cento di sconto sui trading fees veramente siamo quasi in oltamai complimenti a bgb e io nei cowboy lo già diciamo ovviamente ne parlavo già da tempo e secondo me l'ho detto più volte come questo token secondo me fa la skyrockets perché è appena un terzo la capitalizzazione di crow e ha volumi molto pingenti rispetto a quelli di crow se ne vedete in questo momento crow ha una capitalizzazione di 1,6 miliardi a fronte di un prezzo denominale di 0,06 centesimi ma volumi molto inferiori 9 milioni contro i 25 milioni in questo momento di bgb tra l'altro bgb non si può shortare quindi capite che non sono stupidi ok questa è un po' l'idea poi voglio mostrarvi proprio situazione alcoli come tantissime alcoli hanno performato btc nonostante il dump troviamo cava unisop flocchi gmx queste sono state le più performanti sul giornaliero ora andiamo a vedere quello che la bitcoin nomina perché proprio ieri ok c'è stato questo drop ok da parte btc e paradossalmente le alcoli sono andate a guadagnare quindi cosa mi aspetto mi aspetto che il top ok dei 48 90 bitcoin è stato fatto e da qui soprattutto ethereum e a seguire tutti gli alcoli andranno a prendere forza ovviamente anche questo che restai sui 70 preso e ora dovremmo andare letteralmente giù vedremo se questo si verificherà poi andiamo a vedere ethereum contro bitcoin siamo sempre all'interno di questo range tra i 0062 e i 0078 quindi secondo me ethereum andrà a performare btc perché stiamo in questo momento all'interno di questo training range andiamo a vedere anche ethereum che sta mantenendo la zona di 1800 vi ricordo questo supporto a questo baluward di 1800 con possibilità anche qui di training range zona 1800 barra 2000 dollari e quindi potremmo letteralmente far questo ovviamente in caso quando scatterebbe anche questo caso il pericolo sistemico proprio in caso di rottura dei 1800 dollari andiamo a vedere anche quello che sta venendo su pepe pepe letteralmente in crash avevo fatto ieri un video come è finita su pepe secondo me si dopo listine su binance anche se in futuro lo vedo bullish ok da qui al prossimo bulan ma secondo me ora ci aspetterà un bello scarico sta scaricando ovviamente la market cap sta scaricando i volumi e se ne vedete pepe vediamo una total liquidità di 10 milioni quindi avevamo perso un milione ma guardato quanto ha perso in percentuali pepe primo elemento e soprattutto i volumi siamo a 16 milioni di volumi che sono sempre tanti però fino a qualche giorno fa eravamo a 90 milioni di volumi quindi attenzione oggi su pepe io aspetto il grande dump quando mi guarda pepe lo vediamo lo si vince anche da questo grafico e invece una coin che secondo me potrebbe far bene che ha scaricato tanto so che magari molti mi dann contro ma vi ricordo che quando ci fu lo skyrockets che edita la luna io lo predissi e secondo me abbiamo buone possibilità qua in questo momento ovviamente lo sono le cose di finanziarie e le cose di trading siamo in prezzo di 9 mila in pieno controllo buoni volumi in questo momento 79 milioni a fronte di 527 milioni di liquidità ok scusate i market cap e vediamo come c'è stata una bella risposta guardate qui la famosa zona accumulo che andava dall'8 agosto è identico che il grafico in questo momento quindi secondo me potremmo riavare skyrockets da parte di lung ovviamente dove sto trovando io lung in questo momento su bing x trovi sotto il ref in descrizione ora andremo a chiudere letteralmente con una coin che sta facendo bene ok in cui io non avevo già parlato giorni fa siamo attualmente in dcx eravamo arrivati fino a 20x ma va bene così ok fit ok in questo momento prezzo di 1046 ok market cap di 677 mila dollari quindi nulla cosmico e ricordo che queste coin sono delle coin usa e getta mi raccomando ok quindi dopo che qualcuno mi dica ah ma tu parlavi di fit sì in ottica speculativa come sempre volumi per 10.722 dollari quindi niente ad oggi e voglio mostrarvi anche quello che è il mio portafoglio che rimane intatto ho sempre diciamo il controvalore di circa questa ok dotazione in fit che sono 722 dollari siamo un po' droppati però io penso che potenzialmente vorrei sfruttarmi quello che sarà il listing su bitmart io mi aspetto un listing ok su questo su questa coin poi quello che mi sorprende comunque è il numero di holders in aumento 2300 la liquidità bassissima ok in questo momento quindi o arriva liquidità o è dura però abbiamo una total liquidi qui scusate abbiamo una total liquidi di 116 mila dollari quindi io sono confidence io l'ho presa praticamente 70 dollari che erano arrivate addirittura a 1.400 mi sto dando dove si perde le amen tra virgolette quindi vedremo quello che succederà dopodichè andiamo a vedere anche alcuni tweet sembrerebbe che le principali balene di pepe si siano spostati su fit vedremo io non penso ok perché 9000 dollari di liquidità difficile però vedremo ok ma lì ci sono accordi ci sono cose quello che potrebbe letteralmente far fare skyrockets da fit è letteralmente i listing su bitmart quale loro proprio lo stesso bitmart guardate qui ha scritto presto arriverà all'istaggio quindi vedremo e io sarò lì pronto ok con le mie bag ovviamente ti ricordo che se anche tu vuoi far parte ok dei cowboy vuoi far parte vuoi conoscere quello che è il protocollo dei cripto cowboy puoi valutare il tuo collega gratuita trovi sotto il link in descrizione col che avrà una durata tra i 20 e i 30 minuti e ti andrò a spiegare quello che è il protocollo dei cripto cowboy e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di sottolineare a like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre